I musei civici di Pesaro 2024 festeggiano la seconda stella Michelin, un po' come viene per le più note stelle del mondo della ristorazione. La nota guida francese ha posato gli occhi sulla città di Pesaro e i suoi musei, decidendo di aggiungere una seconda stella ai musei civici di quella che è la capitale italiana della cultura 2024. Quasi tutti conoscono la guida Michelin per i ristoranti, la guida rossa, quella che da una stella, due stelle, tre stelle indica il livello raggiunto da un ristorante e dai suoi chef. In questo caso le tre stelle indicano che quel ristorante merita un viaggio apposito e le due stelle che invece da un percorso prestabilito, tipo un viaggio in autostrada, meritano una deviazione perché merita una sosta per visitare quel ristorante. Per le guide verdi invece che si occupano di città e si occupano di musei, luoghi della cultura in particolar modo vale lo stesso. Intanto è una guida molto importante non solo per il pubblico francese ma per il pubblico europeo che guarda a questo stile di racconto fondamentalmente perché quel pubblico che guarda anche meno, cerca anche meno le destinazioni turistiche in overbooking ma fanno invece appositamente magari un viaggio per dedicare il giusto tempo per vivere un'esperienza culturale, turistica, naturalistica. In questo caso appunto la città di Pesaro ha una stella per dire, mentre il risultato dei musei civici è stato quello di ottenere due stelle per il complesso dei musei in un quadro molto felice della provincia in cui il palazzo locale di Urbino raggiunge tre stelle assieme alla città di Urbino per la sua bellezza naturalmente rinascimentale. È una promozione molto importante appunto per il pubblico che è in grado di orientare ma anche un riconoscimento al lavoro di questi anni, al lavoro innanzitutto di chi ai musei ha lavorato, da quelli che si occupano del patrimonio per conto dell'amministrazione comunale ma anche di chi ha l'accoglienza, i desk, nelle visite, nelle guide o immaginando e promuovendo mostre l'ha fatto crescere. Nel 2013 i musei civici di Pesaro hanno avuto un importante intervento di ristrutturazione qui è eseguito poi una ridefinizione degli spazi anche sacrificando a volte parti delle collezioni permanenti per poter fare delle mostre diciamo più frequenti magari in dialogo con il patrimonio. Questa strategia ha pagato, insomma anche la Michelin ci riconosce questo tipo di lavoro ma non ci dobbiamo fermare qui perché in realtà il PNRR ci dà la possibilità di fare più cose tra cui ad esempio ampliare i musei con l'intervento che sta partendo in questi giorni della ex faleghimeria per cui si potrà ampliare la parte permanente dei musei civici di Palazzo Toschi Mosca con una sezione dedicata al Novecento e sul Palazzo Mazzolari Mosca, palazzo inteso quasi come gemello in realtà perché vicini che ospitava l'assessorato al turismo, in realtà dopo la ristrutturazione del PNRR andrà a ospitare un ampliamento della collezione permanente dei musei e uno spazio dedicato anche ai depositi per renderli più visitabili ma soprattutto diciamo più salubri e più ben distribuiti come in parte compressi sono ora e quindi c'è una fase avvincente, questo riconoscimento ci dà una grande spinta non solo di visibilità ma anche di fiducia sul lavoro svolto ma soprattutto ci responsabilizza magari verso la terza stella anche per quelli che sono gli obiettivi futuri. Grazie 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 Grazie